IT capitolo 2. Ciao bici, siamo venuti in questo nuovo video. Devo ammettere che io non sono proprio un amante dei film dell'orrore e anzi devo dire che sono proprio un cacasotto ed è per questo che IT capitolo 1 mi era più uscito molto perché non era un film horror, era più un film d'avventura molto simile a Stranger Things. Credo anzi che se Stranger Things non fosse uscito in quel periodo IT capitolo 1 sarebbe stato molto diverso. Non è un caso che il libro da cui è tratto questo film si svolga negli anni 50 e negli anni 80 mentre il film si svolga negli anni 80 e nei giorni nostri. Non è neanche un caso il fatto che le due opere condividano un attore. Sto parlando di Finn, non mi ricordo il cognome, ossia Mike in Stranger Things e Richie in IT. Ma non è di IT capitolo 1 che voglio parlarvi, è di IT capitolo 2 che ho visto questo venerdì. Quindi IT capitolo 2 mi è piaciuto quanto il primo? No. Ma adesso vi spiego perché. Il film in realtà si apre molto bene con questa scena che mi ha distrutto completamente il cuore dove vediamo questi due omosessuali che vengono picchiati a sangue da questi due malviventi che per di più buttano uno dei due nel fiume. Oltre al danno alla beffa il ragazzo che viene buttato nel fiume viene salvato da IT che lo uccide. Questo mi ha fatto abbastanza male perché di solito tutti vorremmo vedere i bulli, i cattivi, venire uccisi da IT e invece non è andata così. La scena poi si sposta sui nostri perdenti ormai cresciuti, in particolare Mike che è l'unico rimasto a Derry. Tutti gli altri perdenti si sono trasferiti in altre città e hanno continuato le loro vite dimenticandosi di IT. Mike quindi decide di chiamare tutti i perdenti per far ritornare a Derry per sconfiggere IT e quindi mantenere la promessa che si erano fatti da bambini nello scorso film. La scena della riunione dei perdenti è molto bella e qui si vede che il regista Andy Muschietti è molto bravo nel valorizzare l'intero gruppo dei perdenti ed è per questo che uno dei difetti più grandi di questo film è stato il dividere i personaggi. Ogni personaggio è costretto a rimanere da solo per cercare un determinato oggetto che possa far ritornare la memoria. Perché come abbiamo detto in precedenza i perdenti tranne Mike non si ricordano niente di IT e quindi devono per tutto il film ricordarsi di ciò che è successo nell'estate del 89. Quindi sostanzialmente la parte centrale del film è un susseguirsi di flashback presente flashback presente dove vediamo uno dei perdenti bambino che viene spaventato da IT nel flashback e poi nel presente il perdente ormai cresciuto viene spaventato da IT. Una noia mortale. Per di più il film decide di continuare la storia di Henry Burroughs il bullo... Burroughs dovrebbe chiamarsi sì una cosa del genere... il bullo del primo film che è stato messo in una clinica psichiatrica a seguito dell'omicidio del padre avvenuto nel primo film nel primo capitolo e adesso grazie a IT nel presente riesce a scappare ormai cresciuto e vuole uccidere tutti i perdenti. C'è soltanto in due scene. Nella prima scena viene accoltellato malamente da Eddie dopo averlo pugnalato alla guancia. Nella seconda scena invece viene ucciso da Richie quindi ce lo siamo tolti in due secondi quindi potevano anche non metterlo. Parlando di scene che se venivano eliminate era meglio parliamo del rito di Chad. Rito di Chad che a quanto pare io il libro non l'ho letto ma a quanto pare molto importante ma nel film non serve assolutamente a niente perché viene fatto si scopre che non serve a niente e poi IT viene sconfitto bullizzandolo sostanzialmente. Cioè IT gli dicono fai schifo ti puzza al culo. IT tipo si sconfia o gli strappano il cuore e IT muore. E ultimo ma non ultimo difetto James McAvoy e la Chastain. Due attori bravissimi. McAvoy ha recitato in Wanted, X-Men, Split, Glass. Glass è un po' la merda però ha recitato in questi film. La Chastain me la ricordo in Interstellar. Cioè ha recitato in un film di Nolan, non proprio il Natale sullo Nilo. Questi due attori sono non pervenuti. Non senza infami e senza lode. Non che non siano stati bravi però sembrava quasi che non avessero voglia. Mentre l'attore che interpreta Ricci da adulto è molto bravo. Bill Hader quello è stato un'ottima forse un po' troppo pesante comic relief però ci stava. Era bravo. Si vedeva che ci aveva messo tutto se stesso. Poi gli altri attori che interpretano gli altri perdenti insomma anche loro niente di speciale. Però io da McAvoy e dalla Chastain mi aspettavo molto di più. Mentre per Bill Skarsgård non ho nulla da dire. È stato bravissimo. Cioè avrei qualcosa da dire sul suo cognome però a parte quello è stato davvero bravo. Ci ha messo tutto se stesso per interpretare Pennywise. Più che della regia di Andy Muschietti che mi era piaciuta molto di più nel capitolo 1. Non so in questo secondo capitolo mi sembra che abbia un po' riciclato alcune trovate intelligenti della prima del primo capitolo. Vorrei invece menzionare la fotografia di questo film. Fotografia davvero impeccabile fatta da Keckovarese che io non conoscevo però devo dire complimenti perché moltissimi inquadratori di questo film sono dei quadri. Sono dei veri e propri quadri. Devo ammettere però che la fotografia era una delle cose che mi aveva fatto innamorare del primo capitolo. Il primo capitolo è fantastico. C'è la scena di Beverly nel primo capitolo che viene sospesa e sospesa per aria perché ha visto la vera forma di It e quindi era rimasta ipnotizzata da It. Si vede questa scena dove lei è sospesa ed è fantastica. Sembra un quadro. Cioè vorrei appenderla in camera con la scena. È bellissima. Questo film sostanzialmente non è un horror. È più un film d'avventura per ragazzi con alcune sfumature horror. Tuttavia ci sono i jumpscare. Cosa che io odio anche se purtroppo è un'ondata che affligge l'horror moderno che purtroppo ha influenzato anche questo film. Comunque vabbè. Adesso però vorrei parlare del difetto più grande che ha questo secondo capitolo di It. Le persone che sono andata a vederlo. Io sono andato nel cinema della mia città. Un cinema piccolo. È un multisala però. C'ha due sale. E la sala era abbastanza piena. C'erano un bel po' di persone. persone che non hanno fatto altro che parlare, gridare, ridere. Che per carità non è un film horror ma non è neanche una commedia. Se ci sono alcune scene dove non bisogna ridere perché cazzo ridi? E ultimo ma non ultimo hanno fotografato per tutta la durata del film. Fotografato col flash. Probabilmente per postarlo su Facebook, Twitter, Instagram. Non lo so quale è il social che va di moda adesso mi fanno schifo i social. Tranne YouTube. Più o meno. Ora io dico come fai? Come fai a spendere dei soldi per non vedere un film? Perché sostanzialmente il film non l'hai visto. Non te lo sei goduto tu perché dovevi fare le foto. Non me lo sono goduto io perché stavo insieme a te che sei un coglione. Quindi io sostanzialmente ho speso 6 euro e 50 perché 6 euro e 50 hai perso il biglietto. li ho sprecati. Cioè il cinema è la mia passione quindi non smetterò mai di andare al cinema. A me piace un sacco il cinema. Ma non mi piace un sacco il cinema della mia città. Infatti io probabilmente non ci andrò mai più lì. Io di solito vado in un cinema più grande, un cinema che è in un'altra città perché è anche strutturato in maniera migliore dal momento che le sale del multisala dove vado di solito, che è molto più grande, è strutturato in questa maniera. I sedili sono a diversi livelli, ci sono tipo delle scale. Quindi se tu hai davanti qualcuno di alto comunque riesci a vedere perché sei a un livello superiore. Cosa che nel cinema della mia città non succede perché è tutto allo stesso livello. Quindi pure questa è una schifezza. Però non volevo spendere tanti soldi di benzina e quindi sono andato a vedere al cinema della mia città. Non l'avessi mai fatto. Io solitamente cerco di concludere i miei video in maniera più divertente possibile. Che poi io ci riesca o meno questo sta a voi. Comunque cerco di intrattenermi. Però questa volta vorrei lasciarvi con un messaggio. È triste. Ma una persona che vede nel cinema la sua più grande passione, come me, se avesse saputo che quella sera, in quella sala ci fossero state quelle persone, il film non sarebbe andato a vederlo.